Sono contento per l'assoluzione dell'ex sindaco di Cicli, Franco Susino, esordisce così il deputato regionale del pidinello Di Pasquale dopo la sentenza al processo per associazione mafiosa. Susino era imputato per concorso esterno sulla questione rifiuti, continua Di Pasquale, e per il quale si era deciso che il fatto non sussiste. Gli imputati condannati invece lo sono stati per associazione a delinquere, semplice. Per Di Pasquale adesso, caduta l'impalcatura mafiosa dell'intero processo, eppure essendosi verificati fatti gravi, bisogna capire come si è arrivato allo scioglimento per mafia del comune di Cicli. Avevo sostenuto, dice Di Pasquale, fin dall'inizio di questa triste vicenda, le stranità di Susino a reati contestati, così come aveva aderito con convinzione al ricorso contro lo scioglimento dell'ente per ragione di mafia. Adesso non importa dire che avevo ragione, sottolinea il parlamentare ragusano, ma chiedo di sapere cosa farà adesso lo Stato per ripristinare la rispettabilità di un'intera comunità e quella di un gualantomo come Susino. Cicli e l'intera provincia di Ragusa hanno subito un'ingiustificata mortificazione alla conclusione di Di Pasquale, oltre ad un incredibile danno d'immagine per colpa della frettolosità di qualcuno. Errori gravissimi, conclude Di Pasquale, che adesso qualcuno dovrà riparare.